Sono state forti, comunque ci hanno colpito e ha dato un bel messaggio che comunque anche noi giovani siamo sempre con i telefoni e di riuscire a toglierci dal telefono e a guardare la realtà e non attraverso gli schermi. Il fatto che sia andato a visitare le carcerate, questo mi ha colpito molto perché lui lo ribadisce sempre, ha il cuore rivolto verso gli ultimi. Sempre un'esperienza molto bella ascoltare e sentire qui il messaggio di pace, di speranza che lui offre sempre a noi fedeli, ma a tutto il mondo perché è un Papa per tutto il mondo, non solo per noi.